Ben tornati o benvenuti al mio canale Io sono Alessia e se ancora non mi conoscete Vi consiglio di andarmi a seguire su Instagram Tra i link qui sotto e qui Vi sono apparti i miei social Come avete detto dal titolo Oggi vi porterò con me in una giornata Vi farò vedere tutto quello che mangerò Adesso sono le 21.51 E preparerò la volazione di domani Voglio fare i mini pancake I cereal pancake Non so bene come si dicano Comunque quei pancake sono spopolati Su TikTok, su Pinterest, su Instagram E li faccio la sera prima Perché sono piccoli E ci metterò tanto a farli E quindi domani non voglio fare tardi magari a lezione Ci vediamo? Tra poco Per voi sarà un secondo, per me non so quanto tempo Comunque no A me sembra sempre di sbagliare la intro Perché faccio tutto veloce E poi la riascolto piano Quando la edito E sembra sempre che manca qualcosa O che salto qualche lettera O che faccio tutto insieme O che muovo troppo le mani Però vabbè Ma prima breve interruzione Allora, eccomi qui Sono la lesa dell'editing E volevo dirvi che parlerò qualche volta del video Perché mi sono dimenticata di qualche cosina Di spiegare certe cose Quindi vi interromperò un po' la visione Allora, prima cosa volevo dirvi che Qui sotto nell'avvio trovate le timestamps Ovvero la divisione del video In tutte le ricettine che ho realizzato Ovvero la colazione La prima merenda Il pranzo La seconda merenda E la cena Poi, sempre qui Trovate anche le ricette E le dosi Di tutte le preparazioni Che ho svolto In questo video E poi volevo dirvi Che se avete qualsiasi domanda Qualsiasi cosa da chiedermi Richieste di video Quello che volete Commentate qui sotto Tanto rispondo sempre Noi ci vediamo Tra poco Ok, ok Ok, ci sto Ci sto Sì Ho preparato tutto Per fare pancake Iniziamo? Che dici Gabriele? Posso emozionare? Ciao Facendo pancake Mi sa che ho messo un po' troppo Oh, ti devo raccontare quella cosa Ma se ce la butta tutta? Siamo vicino al punto di vettura C'è questo Butta tutta? Sì, non è vada Ti vuole quanto ne rimane? Cazzo ci faccio Cazzo ci faccio Non mi ha fatto il panico Ho sassato tutto Mica faccio così Tanto non ti si sente Facciamo un zoom Che è Eh sì Almeno Sì 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 No Che carini Oh, questi sono vendi proprio bellini Due pancake siamese Oh, non ti addormentare? Andiamo a fare i pancake insieme Buongiorno Allora Mi vedete ancora confiata al sonno Perché mi sono svegliata letteralmente da 6 minuti Infatti sono le 7 e 40 E adesso Preparerò la colazione Eccoli qui I mini pancake Se non mi dico sì E ne mangerò un po' Con banana e nutella Diciamo che volevo fare Banana e miele Visto che lo ciroppo da Cioè non lo trovo mai E però con la banana sta meglio E poi farò un cappuccino Perché mi devo riacchiappare Non c'ho troppo sonno Non c'ho troppo sonno Ok, ho fatto delle foto E adesso sarà Il momento della verità Buone, alla fine sembrano Di mangiare i pancake Cioccolato e il banana Alla fine non ho messo la nutella Ma ho messo questa Perché mi sembrava un po' più liquida La nutella Allora sono le 8 e 6 E tra qualche minuto Dovrò entrare a fare videolezione Comunque Adesso ho portato con me Il cappuccino Che berrò Mentre farò lezione E l'acqua E niente Questo è Dovrò agitare tanto Perché di prima mattina Parlo male Non riesco a fare Delle frasi con un senso Poi devo una cosa Ritorno a quella di prima Comunque vi devo lasciare Perché sono le 8 e 9 E tra un minuto Inizio Video Lezione Ok Sono le 10 e 58 E adesso andrò a fare Ricreazione Diciamo Merenda in realtà Perché la professoressa Decida di farcela fare prima E iniziare Prima Aio Mi solito non metto Cittura Mi faccio male Presente Ok Sono le 14 e 5 E ho da poco finito Video lezione Da circa un quarto d'ora Ho finito di scrivere Degli appunti Ho fatto degli assunti Diciamo Mi sono anticipata Un po' Delle cose E Sto morendo di fame Tanta fame E mi mangerò La pasta fredda Con il basilico Il tono Il pomodoro Scagli di formaggio E un po' di pesto Che sembra una cosa complessa Ma alla fine ci vuole pochissimo Perché Alla fine Devi solo Quasere la pasta E tagliare le cose Quindi Corriamo No andiamo Corriamo Perché sto morendo di fame Ehi Siri Imposta un timer di 10 minuti Non abbiamo Il pesto E il basilico E il basilico Allora Adesso, visto che mangerò da sola Metterò Un bel episodio di Masterchef Che come vi dicevo nell'ultimo video Adoro Buono Hai dei vestiti che non metti più Ok, eccomi qui Adesso preparerò la Seconda merenda Salata Perché ho mangiato un sacco di dolce oggi E ho già preparato tutti gli ingredienti Sono davvero pochi Sembra essere veloce E quindi niente Grazie a tutti Ok, in realtà li volevo fare tipo a triangolini slash quadratini, ma non ho degli stampini così, quindi farò queste stelline. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, eccoci alla fine del video e prima cosa volevo spiegarvi che non c'è la clip mentre mangio la piatina proprio perché ero con la mia famiglia e non vogliono essere presi, poi diciamo che mi sono con il momento, sono stata con loro, tutti insieme. E poi c'è proprio uno sbalzo temporale e anche uno sbalzo di qualità di videocamera perché come ho detto mi si era scaricata e non so perché ci mette così tanto a caricarsi. Quindi abbiamo capito tutti che mi serve una seconda batteria e niente, questo è tutto, come sempre commentate qui sotto così parliamo un pochino, ci sentiamo, ci aggiorniamo e noi ci vediamo domenica prossima a mezzogiorno con un nuovo video.